Oggi è il compleanno di mio figlio Adriano, compie 13 anni e ha chiesto di andare a fare il patinaggio su ghiaccio. Una pista di ben 400 metri, sono partiti tutti quanti velocissimi, ci sono anche bambini proprio piccoli. E' appena passata la macchinetta per fare ghiaccio ed è proprio liscissimo a terra. Buona giornata a tutti! Ci sono dei vecchiarelli che pattenano velocissimi, praticamente non so già quante volte mi hanno doppiata, ma anche dei bambini molto piccoli che sono più bravi di me. Va bene che io ho la scusa che non è che patteno così spesso poi. Oggi siamo venuti alla pista di pattenaggio di Amsterdam. Sono 400 metri di ghiaccio all'aperto. L'anno scorso uno dei video che vi è piaciuto di più dell'Olanda era proprio in quello in cui andavamo a patinare. Però erano dei quadrati all'aperto organizzati per le feste natalizie. Quest'anno, a causa del lockdown, non è stato possibile. Quindi l'unico che è rimasto aperto è questo qui, che è quello che viene usato anche dalle persone che come sport fanno proprio il patinaggio sul ghiaccio. Grazie a tutti.